buongiorno dalla redazione di firenze smart in studio marco gargini iniziamo dalla 11 dove in direzione firenze si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra sesto fiorentino e peretola spostandoci sulla strada di grande comunicazione fipilin direzione firenze code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra ginestra fiorentina e firenze scandici sul raccordo siena firenze rallentamenti per lavori tra san casciano in val di pesa e firenze in pruneta in entrambe le direzioni a firenze fino a metà ottobre lavori per il parcheggio realizzato da rfi nella zona del sodo muoversi in toscana è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio grazie a tutti